Siamo sempre a Sant'Ippolito per scolpire in piazza, con noi c'è Federico Postuelo, viene da Madrid per un'opera che sta realizzando, te già hai finito, gli altri artisti ancora sono al termine, comunque sono lì tutti affrettati per finire, come ti è venuto in mente poi di venire a partecipare, a scolpire in piazza? La verità è che l'ho visto sul Facebook, di conoscenza di amici, di un altro amico, guarda il bando e alla fine ho inviato il bando e sono qua. Per quello che conosco Sant'Ippolito, alla fine se conosce la gente della scultura lo conosce per il simposio. Quindi hai vinto, perché molti so che hanno partecipato al bando, hanno inviato il disegno, lo schizzo della scultura e uno dei tuoi è stato scelto. La tua opera ha un nome o è ancora senza titolo? No, è un'opera veramente senza titolo, è puramente astratta e un po' di più, non posso dire niente, alla fine astratto lo dice tutto. Però nell'opera rappresenti un po' i tuoi sentimenti, il tuo modo di essere? Alla fine non so come dire, lavoro in pietra, sempre sto lavorando la pietra e alla fine uno trova una forma di fare, una forma di così e questo è il risultato. Questo è il tuo lavoro, questa è la tua vita? Questo è il mio lavoro. Federico, scolpisci solo pietra o anche altri materiali? Sì, qua all'Italia adesso abito a Carrara e la verità è che solo lavoro la pietra, ma alla Spagna lavoriamo di tutto. Abbiamo un laboratorio, si chiama Taglier al Mortas e lavoriamo un po' di tutto, ferro, resina, pietra, un po' di tutto, modellazione soprattutto e ferro. Hai un sito internet dove possiamo andare a vedere? Eh sì, sul Facebook si può vedere, abbiamo un sito in Facebook, Taglier al Mortas e scultura, e lì si può vedere perfettamente l'opera di tutti e lo che lavoriamo lì. Perfetto, grazie. Grazie. Grazie.